Con il passaggio della televisione al digitale terrestre si corre il rischio di non avere più un sistema radiotelevisivo in alcune aree del mezzogiorno. E' questo il grido di allarme lanciato a Matera dove si è svolto un seminario nazionale per iniziativa del coordinamento nazionale dei Corecom. E' necessario una maggiore sinergia sia tra il governo nazionale che tra le regioni per individuare le possibilità economiche e permettere loro di consentire il proseguo delle attività. I consiglieri Pagliuca, Mollica e Scaglione si sono detti disponibili al varo di un provvedimento bipartisan guardando alle iniziative intraprese dalle altre regioni. I presidenti di Giunta e Consiglio regionale hanno fatto pervenire i loro messaggi. De Filippo, per il tramite del suo portavoce Nino Grasso, ha annunciato che allo studio una forma di noleggio della banda su cui sperimentare sia la diffusione di contenuti multimediali sia di servizi interattivi della regione Basilicata. Folino ha annunciato invece l'impegno della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali per chiedere al governo di rivedere scelte e azioni che possono incidere negativamente sulle realtà televisive più deboli. Concordi sulla necessità di un impegno a tutti i livelli istituzionali l'ex ministro Paolo Gentiloni ed il vice presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, Giorgio Lainati. Certo non si può chiedere che i sacrifici in termini di frequenze e di capacità trasmissiva siano messi soltanto a carico dell'emittenza locale. Diventa fondamentale il ruolo delle regioni stesse, soprattutto nelle zone qui nel Mezzogiorno dove ci sono tantissime belle televisioni locali.